Cari spettatori, benvenuti su Nome Canale. Oggi ci immergeremo nell'attesissimo documentario di Ilari Blasi, intitolato Unica, che farà il suo debutto su Netflix il prossimo 24 novembre. Le anticipazioni su questo progetto sono già ad un livello di eccitazione elevato. E noi siamo qui per darvi un assaggio di cosa aspettarvi. Il regista Tommaso De Boni, che ha girato il documentario, svela un dettaglio intrigante. Il film è stato girato di nascosto da niente meno che Francesco Totti. Questo ha scatenato molte speculazioni sulla natura del documentario. Con alcune voci che suggeriscono che potrebbe essere una mossa strategica di immagine per Ilari dopo il discusso divorzio con l'ex calciatore. De Boni rivela che la pellicola è stata realizzata velocemente in segreto. Sia a Roma che nella casa di Ilari. Aggiungendo un tocco di mistero e autenticità al progetto. Durante il documentario, avremo l'opportunità di ascoltare un'intervista esclusiva alla conduttrice 42enne. Alternata a riflessioni di membri della sua famiglia. comprese le sue sorelle. Tuttavia, i figli sembrano non essere coinvolti. E il regista assicura che non ci saranno rivelazioni scioccanti o testimonianze scomode. De Boni fa anche luce sulla personalità di Ilari. Descrivendola come una donna famosa che ha affrontato le sfide della vita con la stessa forza di chiunque altro. Il messaggio del documentario sembra essere un ode alla sua autenticità. Mostrandoci un lato più naturale di Ilari. Lontano dai cliché e dai pregiudizi. Un messaggio che potrebbe essere interpretato anche come un gesto conciliante verso l'ex marito. Francesco Totti. Inoltre, il regista sottolinea che il documentario non è stato influenzato da richieste di immagine da parte di Ilari. Rendendolo un ritratto sincero della sua vita. Concludiamo l'anteprima con l'invito a tutti voi a sintonizzarvi per scoprire di più su questa figura affascinante e complessa. Unica. Promette di essere un viaggio emozionante e ci auguriamo che siate con noi quando il documentario farà il suo debutto su Netflix il 24 novembre. Non dimenticate di lasciare un like e condividere il video e iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e contenuti esclusivi. Grazie per essere con noi. E ci vediamo al prossimo video.